E' caro Vasco, caro Vasco, queste situazioni qui, questi giovani che ti vogliono prendere in giro, io voglio dire a loro che ogni giorno sarete come il Vasco, senza capelli, con i piedi da fuoco, e comunque Vasco, dico cosa a questi ragazzi, dimostragli che cosa sa fare in un vero uomo, che sa anche perdonare, vai Vasco, facci sentire. Grazie, io vi voglio veramente ringraziare tutti, uno per uno, uno per uno, per l'affetto, per l'affetto, grazie. Grazie, grazie. Sono fantastici. Questa è ordinaria. Grazie a questo minuto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.